Ancora sangue sulle strade della provincia di Lecce. Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 14 settembre sulla strada provinciale 215 che collega Mancaverse Gallipoli nei pressi dei parcheggi di Punta della Suina. A perdere la vita è Leonardo Esposito, un 46enne originario della città bella, che intorno alle 19.30 stava percorrendo l'arteria extraurbana a bordo della sua moto, quando, per causa ancora da accertare, si sarebbe scontrato contro un Fiat Cubo impegnato in una manovra sulla corsia opposta. In seguito all'impatto il 46enne è sbalzato dalla sella del motociclo ed è caduto rovinosamente sull'asfalto a centro carreggiata. La moto invece ha terminato la sua corsa in aperta campagna. Ad allertare i soccorsi sono stati gli automobilisti di passaggio. Immediato è stato l'intervento dei sanitari del 118, rivelatosi purtroppo inutile. Il cuore del motociclista aveva cessato di battere. Oltre al personale medico e paramedico sul posto erano presenti anche gli agenti della polizia locale di Gallipoli a cui sono affidati i rilievi e che hanno regolato la viabilità. La salma dopo gli accertamenti è stata restituita ai familiari per la celebrazione del funerale.